Fere, ma che cosa hai combinato esattamente? È successo un incidente! No, ma allora, una cosa è un incidente, una cosa è buttare giù tutto un treno così, Fere! Ma c'era un gattino qui, io l'ho visto e ho sbandato e abbiamo fatto l'incidente, lo vuoi il gattino? Te lo porto? No, allora, io capisco salvare i gattini perché sono carini, ma buttare giù tutto un treno per un gattino, Fere, non lo so, eh, guarda! Però la cosa bella è che adesso siamo in vacanza in montagna, sei felice? Abbastanza! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! E io sono Stef, e che stai dicendo a Gmod? E oggi siamo qui, in una mappa di Gmod molto particolare, giocheremo al Gessù e siamo all'aria aperta, non lo siamo mai stati, quindi mi sembrava il caso di prenderci una bella vacanza su Gmod, pure noi! Vorrei andare in montagna nella vita reale, perché c'è un caldo incredibile in questi giorni! In città, sì, assurdo! E lì, secondo me, si sta decisamente meglio! Se siete in montagna in questi giorni, con solini, scrivetelo nei commenti! In ogni caso, alla fine di questo video, dato che stiamo registrando il giorno in cui è uscito il video delle magliette, Andremo a vedere quante magliette per adesso avete comprato! Dato che ancora non l'abbiamo mai guardato, facciamo la reazione in diretta e vediamo quante magliette avete comprato! In ogni caso, se le volete ancora comprare, link in descrizione! E adesso, Fere, dobbiamo partire! Quindi tieni questo e io me ne vado! Oh no! No, mi sono incastrato anche io! Fere, ma dove sei andata, scusa? Mi sono già nascosta! Ma non dovevamo fare le vacanze, diciamo, estive, all'aperto, insieme, picnic? Eh sì, ok, che bisogna fare le vacanze, ma qui dobbiamo anche giocare a Gessù, mi sembra giusto! Quindi io mi nascondo subito, Fere, 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 shh, 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 che succede? Chi è questo qua? Chi? Guarda! Chi? Guarda questo qua! Uh! Guarda che brutto che è! Forse sì, è una specie rara che si trova solo in montagna! Mi scusi? Mi scusi? E sei seduto? Signor Blob! Signor Blob, mi potrebbe dire che cosa ci fa nel nostro Gessù? No, sa, perché noi abbiamo selezionato appuratamente bene le persone che possono partecipare! Lei non è stata invitata! Fere non risponde, non gli interessa! Non gli interessa! Vabbè! Io ti dirò di più, Stef, ti dirò di più! Che mi scatta il computer! Ti dirò di più, Stef! In questo episodio di Gessù ci sono tanti ospiti nuovi! E io voglio vedere se i consolini saranno abbastanza attenti da riconoscerli tutti! Sono molto curiosa! Uh! Allora, io ne ho già visto un altro reddotto Zorberg che è questo qua! Guardatelo qui che bellino! Buongiorno! Salve! Fai la Sistila Octodead! Non c'era bisogno, Stef, grazie! Abbiamo capito tutti chi è! E vabbè, magari voleva salutare! Ok, quindi! Allora, adesso non mi devo più far distrarre dai nuovi ospiti! E devo pensare a trovare Fere! Fere, mi dai un indizio? Sono in un posto chiuso! In un posto chiuso! Perché se siamo all'aperto, all'aria fresca, eccetera, eccetera, tu sei andato in un posto chiuso! Perché c'è troppo freddo in montagna! Posto chiuso! Qua c'è la casetta! Quindi, dai, esci fuori Fere! Fere? Fere, dove sei? Hai trovato qualcuno lì dentro? No! No? Eh, lo so che non hai trovato... C'è un anno da giardino, ti serve per la casa? No, grazie! Sicura? Magari su Tower Unite, Fere? Non abbiamo un cortile, però! Ah, vabbè, però forse su Tower Unite lo possiamo mettere! Deve scelto Tower Unite, quindi state tranquilli che già state spammando nei commenti! Esce questi giorni promesissimi, è già pronto! Posso chiederti una cosa? Cosa? C'è puzza dove sei nascosta? No! No? C'è un profumo bellissimo di fiori e di alberi! Sì, quindi si sta benissimo! Sì, si sta benissimo! Cosa stai cercando di guardare? Sto controllando se si vedono i piedi! Però non mi sembra! Vediamo! Chiudi la porta! Perché vuoi aprire la porta nel bagno delle signore? Scusi! Scusi, perché deve fare questo? Io sono qui nel bagno, sto facendo gli affari miei e non mi deve aprire la porta! E l'hai aperta tu adesso! No, non l'ho aperta! Allora la Dr. Zoiberg, come è passata? Dr. Zoiberg non l'apra! Perché qui non si apre il bagno delle signore! Scusi, mi scappa, è urgente! Posso andare? Sì, è invisibile, signori! Attenzione! La donna più invisibile di tutto l'anno! Ma dai, smettila, vattene! Fammi scappare! Chissà dove è scappata! Fammi scappare! È diventata dell'FBI adesso! Non sono più una donna! Ci vorrà arrestare? Sì, ti voglio arrestare! Ma no! Neanche muore, guardala! Ok, si sta è matta! Accidenti! Perché ogni volta che io devo fare i nascondigli bellini Per poi scappare in modo epico Mi capitano le abilità più brutte! Cioè, perché non mi è capitato tipo il propant Che diventavo piccolino e fuggivo? Perché? Perché non fa parte di te la fuga! Allora! Ho sfortunato tutti i round! Tutti! Consolini, guardate chi sono! Io non lo dico! Però guardate chi sono! Lui è uno dei nuovi arrivati! Ed è fantastico! L'appena l'abbiamo visto abbiamo fatto No, dobbiamo metterlo per forza Perché è troppo bello! Quindi sei qualcuno nuovo! Eh, sì, ma mentre cambio Cioè, io stavo facendo vedere le consolini Ma adesso cambio e divento qualcos'altro Così non mi scopri! Cosa andiamo a fare questo oggi? Mi dica, quali sono le attività che vorrebbe fare? Allora, sei un suo simile? Ahà! Secondo me sei un personaggio di Futurama allora! Ok! Perché ce ne sono più... Ah, ecco! Andiamo a fare una scampagnata! Secondo me... Sei quello, vero? Sei quello! Ti ho stardito! Perché tu vedi le abilità migliori? Io adesso non lo so dove sei andato Perché non ti ho visto! Perché la fuga fa parte di me, Fere! Non ci puoi fare nulla! Sei questo! No, non sei questo! Perché stava correndo! No, da nozioni! Ero convinta che fossi fuggito! Invece come ne ho visto uno struttore dietro da te! Sicuramente Steph! Ah, peccato! Guardo sempre i video su Instagram In quelli in cui mettono le mani, capito? Metti le mani, li tocchi così E sono troppo belli! Allora, Consolini, vi spiego! Lei sta continuando a parlare Facendo finta di nulla Perché Buttati accidenti! Non mi freghi! Come hai fatto a sapere che ero lì? Come hai fatto? Eravate quattro! Ce ne erano tre diversi! Perché non hai preso un altro diverso? Ma io non ti ho sparato! Stavo soltanto dicendo che eri lì perché eravate quattro invece che tre! Quindi sapevo che c'era uno di troppo! Non sapevo quale eri! Sì, che si siedono a fianco a me sono identici! Cioè, ma almeno cambiatevi il personaggio! Ferre, dove stiamo andando di bello? In gitta? Neanche riesce a prendere Ibi mentre corre! Dai, sei davvero triste, Ferre! Suoi mustaccio! Eccolo qua! Buonasera, signorita! Ma quando mai lui gioca tranquillo? Ma quando mai? Dove sei? Io ho un piccolo problema! Allora, sono nata nella galleria del treno! Devi saltare con controllo e riesci a saltare sul treno proprio all'inizio! La più pallina è di come uscire da qui! Ok, ciao! Mucha spellas l'arias de montagnas! Stai inventando parole? Sì, perché non c'ho Google Translate oggi! Stai aggiungendo S a tutte le parole! Esatto! Non sei questo, vero? Dimmi che non sei questo! No, Ferre, che cosa? Chi sono? Sei vergognoso! Dai, non posso girare l'angolo e trovarti sotto un carrello! Infatti non mi hai trovato, Ferre! Chi hai sparato? Signoritas, cosa sta dicendo? Dove sei finito? Non sarei andato nella caverna, spero! No, no! A nasconderti in una caverna buia! Ho paura del buio nelle caverne! Quindi non ci sono andato! Sei l'ombra! Ciao, Ferre! Buonasera, signorita! E non ti posso neanche sparare! Guarda, si vede solo l'ombra! Io sei l'ombra della vita! Ciao! Però non fa, dovrebbero... Allora, cerco di beccare il tempismo in cui tu esci fuori! Ma cavolo, prendo gli altri! Di tu prendere danno! No! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Grande Ferre, Niki! Oh, che bello! Signorita, perché spararmi? Perché è il Gessu! Mi dispiace! Non sono io che ti voglio sparare! Sono le regole del gioco! No, no! Dobla italiana! Mi dispiace! Mi dispiace! Dobla italiana! Ok, Steph, sono nascosta! Ok! Allora, ti do subito un indizio! Va bene, grazie! Perché sono abbastanza sicura del mio nascondiglio! Ah, va bene! Allora, abbiamo giocato al personaggio di questo gioco! Ok! Giocato nel senso che esiste il suo videogioco e noi ci abbiamo... Hello Neighbor! No, 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 no! Jason! Sì! Ok, perfetto! Sono Jason, sono Jason! Perfetto! Quindi, sei Jason di venerdì 13! E adesso dobbiamo scoprire, però, dove ti sei messa! Penso di sapere dove sei! Ok! Vuoi che te lo dico o vengo alla mazzorti e basta? No, perché... No, allora, dai, vieni direttamente! Sono sicura al 100% proprio! Ok, vai! Non ho il benché minimo dubbio! Allora, andiamo di qui, scriviamo il vicino, poi andiamo qua! Noi ci muoviamo qui! Io non ho idea se ti vedrò! Ok, buongiorno Jack! Hai visto qualcuno? No? Ok, ma tranquillo! Tra poco ci penso io a trovarla! Allora, qui... Dove sei? Dimmi dove sei, ti prego, non vedo nulla, ho tutto bloccato! Ho trovato una scuola interessante! Fede, ma sei nella caverna? No! Fede! No, non sono nella caverna! Sono a casa di Gesù! Prima inizio di questo video gli ho detto Fede, non nasconderti nella caverna perché c'è scritto dal creatore del gioco che può far crashare la partita! Sei brutto! Sei il bugiardo! E lei ti nasconde nella caverna! Allora, a parte che non sono entrata nella caverna io sono entrata solo nell'ingresso Vabbè! Detro una pietra, quindi pensavo di ovviare questa regola E invece ti sei incastrata! Del creatore! Nel frattempo mi sono incastrata, cioè sì! Allora, io ho paura... Purtroppo non riuscirò mai! Io ho paura di entrare, quindi devo cercare di vederla da fuori e di spararla! Fede! Non lo so cosa vedo! Ok, vedo un po' la tua testa, aspetta! Ok, buongiorno! Ce l'hai fatta? Ok, sì, 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 scappo via, scappo via, la caverna maledetta! Fede, siamo all'aria aperta e ancora nessuno dei due ha giocato un round a semplicemente passeggiare Eh, sai perché? Perché sono pochi, sono pochini in questa mappa E infatti bisogna essere coraggiosi, Fede Quindi è difficile, secondo me, camminare e mischiarsi tra gli NPC, è davvero difficile Ci vuole coraggio e Stefania tanto Quindi sono in giro che passeggio all'aria aperta, mi sto godendo questo bellissimo clima E camminerò per un po', vediamo se riesci a capire chi sono in base ai miei movimenti Allora, buongiorno a tutti quelli che ci sono nel mentre Vi voglio tanto tanto bene e siete tutti fantastici Anche voi due, ciao, buon salve! Allora, anche voi due, questo è un bell'indizio Ok, sì, 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 certo, certo A meno che non si spostino nel mentre che arrivo, quindi non lo so Vedete, Consolini, camminare all'aria aperta fa proprio bene State lì a rilassarvi, ai tranquilli, in giro per tutta la mappa E ferinichine mentre perde Cosa c'è di meglio? È fantastico Allora, dammi un indizio perché ho solo 25 di vita Ciao Sei questa? Quale? Questa Sì? Buongiorno! Che cosa hai fatto? Cos'era? Sei qui dietro? Ma che vergogna che fai Però non è giusto Sinceramente non è giusto No, 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 no Sai dovevano comparire altre sette persone E ho detto sarò tranquillo Non riuscirò ad ammazzarmi a quel punto E invece compare un Harry Potter sui gatto da solo E non so perché mi sento che hai una skin Che ha del giallo Sì sì ha del giallo Effettivamente sì Perfetto perfetto avevo questo feeling E lo volevo trasmettere insieme a te Grazie Però il discorso è che non capisco se sei un FBI Oppure un blob Ma il blob è verde Eh no è giallo È verde Quello non è un giallo è un verde Acido ma è un verde Ok allora non sei blob va bene Ho capito Ferro ho capito E allora sei un FBI Ti stai dimenticando di qualcun altro che ha del giallo Ti stai totalmente dimenticando Chi è? Mi dispiace Non lo so Guarda che non è difficile Devi solo capire chi è Perché sei zitto Però ha funzionato a me il per 7 Quindi sei solo tu che non l'hai saputo usare E sono tu che non l'hai saputo usare Ho cliccato il tasto Eh non ti è partito Invece io sono già scappata Addio Praticamente sapevo che Che mancava il giallo di Hello Neighbor Ma ti stavo trollando E infatti mi sembrava strano Ti ho visto passare Ti sei un attimino gelata E ho controllato il tuo schermo Perché io la metto palesemente Ho fatto un po' Allora io non lo guardo mai il tuo schermo Quando guardo Guardo a te Non guardo il tuo schermo E io invece ho guardato il tuo schermo Anche perché poi Come posso vedere il tuo schermo Se perdo sempre Cioè vincerei tutti i round Invece li perdo sempre Quindi non ha proprio senso Allora Fere Secondo me hai imbrogliato Perché a me il persetto Non ha funzionato A te sì Quindi adesso Dato che io sono stato leale E onesto Esci fuori Non so usare Io sono in bella vista Quindi arrangiati tu Dicevo è scarso Non so usare le abilità E se la prende con me Stef ancora non capisce No io lo so Non capisce Io lo so dove sei No non capisci Sei dietro le scatole Dietro l'alberi No Dai me ne sono rimasta sulla torre Però In ogni caso dai direi che ci possiamo fermare così per questo video Come promesso dobbiamo guardare A quante magliette siamo arrivati Allora sono le 18 Quindi il video è uscito da due rette Fere Un'ora e mezzo 16 e 30 Un'ora e mezzo Ok Andiamo Guardi dal telefono Di zili Sì perché non c'ho voglia di stare lì con il computer No certo certo Guardate Sono curiosa Secondo te quante? Vediamo chi vi ha più vicino Non lo so 15 15 Secondo me 23 Come il mio numero Ok Vai Vai 23 davvero? Ma dai perché ci azzecchi sempre Oh comunque bello 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 Io lo devo far vedere ai consolini Perché è davvero un qualcosa di incredibile Oltretutto due Ti prego Telefono Ciao ciao Telefono Telefono Fai vedere questo 23 Questo è il 50 Che dobbiamo raggiungere Non potrete mai sapere che è davvero un 23 Mi dispiace No ci crediamo Però è un 23 Giuro Allora Mettiamo la foto su Instagram Mettiamo la foto su Instagram Così la vedono Esatto Ok perfetto Esatto E stavi dicendo? Che comunque sono tanti No stavi dicendo che due le abbiamo comprate noi Ah sì volevo anche dire due le abbiamo comprate noi Perché ce le stiamo comprate anche per noi stessi Io l'ho presa rosa E tu l'avevi presa celeste Sì 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 Secondo me per diciamo quelli da ragazzo Il celeste è il più carino Davvero un bel colore Se siete delle ragazze E vi piacciono anche gli altri colori Beh sì è vero La potete prendere Spero che se dice così Sentirci un like E se è la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerarvi Da di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao